E oggi si gioca, oggi la Juventus scende in campo e dovrà cercare di portare a casa il bottino pieno, penso che non ci sia più possibilità di scherzare, non ci sia più modo di scherzare, alla Juve servono punti e alla grandissima sappiamo il periodo che stiamo vivendo dal punto di vista dei risultati, sappiamo qual è la classifica di Serie A e quindi la Juventus oggi ha un solo obiettivo in casa, in un infrasettimanale, contro il Lecce, vincere, portare a casa i tre punti, non si può più scherzare, abbiamo fin troppo tirato la corda, abbiamo davvero scherzato con il fuoco e quindi cerchiamo di andare nel dettaglio, non parlerò della formazione anche se andiamo in una direzione, un centrocampo inedito, o almeno che io ricordi inedito, con Paredes davanti alla difesa, i Miretti e Fagioli insieme, insieme a Paredes, quindi questo trio di centrocampo abbastanza bizzarro, vedremo se verrà confermato, si parla addirittura di Bonucci nuovamente titolare al centro della difesa, non so se queste indicazioni saranno poi confermate effettivamente e pure Vlaovic e Di Maria davanti. Vediamo sicuramente la Juventus come la metti la metti, potrà cercare, riuscirà eventualmente a portare a casa i tre punti che ha sicuramente la qualità anche nei ricambi per portare a casa i tre punti e non dimentichiamoci che domenica giochiamo alle ore 12.30, una partita molto importante con l'Atalanta e quindi dato che ne manca una sola a quella partita lì bisogna cercare di iniziare a ragionare un pochettino con il Lecce. Sappiamo che la Juve in casa ha un rendimento maggiore rispetto alle trasferte, beh il Lecce ha segnato 27 gol e ne ha subiti 38 in totale in questo campionato, fuori casa ne ha segnati 11 e ne ha subiti 18, il che significa che dal punto di vista difensivo siamo bene o male lì, fuori casa ha qualche difficoltà in più a segnare dato che 16 gol invece li ha segnati all'interno delle mura amiche. Il Lecce che all'andata ci aveva dato abbastanza filo alla torcere, è lì che si è accesa la stella di Nicolo Fagioli con quel gol meraviglioso che ha ricordato un pochino Alessandro Del Piero. Voglio ricordarvi anche gli ultimi due precedenti in casa nel 2020 abbiamo vinto per 4-0, era l'annata di Sarri, quella dell'ultimo scudetto, se ben ricordo in gol di Bala, Ronaldo, Higuain e pure De Litt. Non abbiamo più nessuno di questi calciatori all'interno della Rosa, quindi la Juventus che dall'ultimo scudetto oggi ha completamente cambiato pelle anche all'interno degli uomini, dei giocatori. E invece il penultimo risultato del Lecce in casa risale ben al 2012, 2 maggio 2012, oggi è il 3, quindi siamo bene o male a 11 anni precisi di distanza. 1-1, lo ricorderete, gol di Bertolacci, una paperona di Gianluigi Buffoni, io tra l'altro ricordo che ero allo stadio in quell'occasione, ho fatto nei primi tre anni di Conte, credo di aver visto perderla Juventus in un paio di occasioni, pareggiare 3-4 pareggi e dato che ho avuto l'abbonamento per il secondo e il terzo anno mi sono goduto una sfilza infinita di vittorie, addirittura ricordo il 3-0 al Chelsea, campione d'Europa, ero allo stadio anche in quell'occasione, insomma mi sono tolto tantissime soddisfazioni, ma quel 2 maggio 2012, quella papera di Buffon, quel gol di Bertolacci, ricordo il mood uscito dallo stadio di una tifoseria che credeva allo scudetto e che invece con quel risultato si rimetteva tutto in discussione. Altra Juve, anche in quell'occasione, la Juventus è sicuramente meno altisonante rispetto a quella del 4-0 dell'ultimo scudetto, altri nomi anche lì, una Juventus che iniziava il ciclo contro una Juventus che chiudeva il ciclo, infatti le ultime due in casa con Lecce sono state in occasione del primo scudetto e dell'ultimo scudetto e oggi, che non ha niente a che vedere con gli scudetti, speriamo possa essere, se proprio vogliamo fare un parallelismo, l'ultimo anno in cui la Juve non vince lo scudetto, diciamo così. Non c'è da ridere, non c'è da scherzare però, perché la Juventus nelle ultime cinque ha fatto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte con Lazio, Sassuolo e Napoli. Dall'altra parte il Lecce ci accompagna in questa speciale e curiosa statistica, perché nelle ultime cinque anche loro una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, l'ultima l'hanno vinta, quindi attenzione che sicuramente da questo punto di vista sono un po' più tranquilli rispetto a noi, ovviamente se poi parliamo di classifica, vabbè, la nostra la conosciamo, sappiamo che comunque è una classifica provvisoria, dato che poi andremo a capire cosa succederà con questa penalizzazione relativa alle plusvalenze, questo annullamento col rinvio, ora dovremo leggere le motivazioni di questo rinvio e poi dovremo affrontare un nuovo processo, saremo nuovamente giudicati, quindi questa classifica è tutto tranne che definitiva. Loro invece per il momento sono salvi, ma soltanto a più quattro sulla terza ultima, che è la Sverona, il che significa che non sono tranquillissimi neppure loro, abbiamo entrambi ancora un obiettivo da raggiungere all'interno di questo campionato, loro l'aritmetica a salvezza, noi l'aritmetica a qualificazione alla Champions, poi vedremo appunto cosa succederà dal punto di vista dell'extracampo. Caratteristiche di questo Lecce sono il quarto ultimo attacco, quindi sicuramente è una squadra che fa fatica a segnare e tirano poco, proprio in generale sono una squadra che tira poco, infatti sono la peggior squadra in Serie A per tiri in porta direttamente, ne hanno fatti soltanto 93 fino ad oggi, per darvi un'idea alla Salernitana e la penultima con 102, quindi in assoluto la peggior squadra da questo punto di vista, non significa che possiano stare tranquilli, lì il Napoli che ha sicuramente meno problemi della Juventus nell'ultimo turno in casa con la Salernitana ha pareggiato e una vittoria avrebbe consegnato lo scudetto agli uomini spalletti, quindi anche se tirano in porta alla fine basta un gol, e magari un gol della domenica come quello di Dià l'altro giorno, magari il risultato pieno non te lo porti a casa, quindi questo è un dato da tenere in considerazione, ma ovviamente non può essere il dato principale. Loro fanno pochi passaggi all'interno della partita e tra l'altro non sono nemmeno precisissimi, infatti sono la penultima squadra in Serie A per percentuale di passaggi riusciti, allo stesso tempo non tirano indietro la gamba, e anzi sono una squadra che sicuramente qualche fallo lo fanno, anche perché sono la terza miglior squadra in Serie A per recuperi palla, quindi da questo punto di vista la Juve deve stare molto attenta, e poi scopriremo perché sono così bravi a recuperare palla, e perché sono la terza miglior squadra in Serie A per recuperi palla, quindi sicuramente non pizza e fichi. Loro comunque preferiscono rimanere bene o male all'interno del loro metà campo e magari eventualmente ripartire, appunto dopo un break, dopo un recupero. Crossano molto, sono una squadra che cerca spesso e volentieri il cross, non dribblano tantissimo, quindi con gli esterni hanno la volontà di andare sul fondo e crossare piuttosto che rientrare e andare a creare una possibilità all'interno della tre quarti in zona di rifinitura. Hanno un rendimento atletico elevato, hanno infatti una media chilometri percorsi praticamente uguale alla nostra. Noi in questo momento non stiamo benissimo dal punto di vista fisico, ne parlavo anche ieri nell'analisi della conferenza stampa di Allegri, e quindi a maggior ragione se una squadra come Lecce si mette sul nostro stesso piano dal punto di vista fisico, dobbiamo stare attenti a gestire questo impatto, perché Allegri dice sempre, con una squadra di questo tipo devi metterti a loro pare dal punto di vista atletico, poi la tecnica e la qualità vengano fuori, sì, per attenzione che non vadano addirittura più forti di noi. Loro hanno un pressing offensivo forte quando la palla è lontana dalla loro porta, quindi nella metà campo nostra verranno a pressarci forte, e l'abbiamo visto che anche il Bologna ci pressava forte e ci mette in difficoltà, perché noi non abbiamo uno sviluppo palla così importante, anzi spesso e volentieri giriamo palla in maniera lenta, a volte in orizzontale, abbiamo una gestione della palla molto bizzarra, noi tendiamo anche a difenderci con la palla, rinunciando magari a velocizzare l'azione per cercare di creare un'occasione offensiva, quindi se noi andiamo a girare la palla belli tranquilli, belli sereni, in maniera lenta magari loro vengono a pressarci, perché loro pressano tanto appunto nella metà campo degli avversari, e noi stiamo spesso e volentieri nella nostra metà campo, quindi potremmo avere questa cosa qui. Quando poi si salta la linea di pressione, perché magari la Juventus gira palla nella sua metà campo, magari nella sua difesa, gli attaccanti vengono a pressare, la Juventus è solita uscire anche con un lancio lungo, quindi salti questa linea di pressione, che cosa succede? Perché se è vero come è vero che sono molto offensivi quando la palla nella metà campo avversaria, nella loro metà campo invece sono molto, molto difensivi. È una difesa organizzata addirittura quando difendono a 6, spesso e volentieri vediamo gli esterni offensivi leali che vanno a fare i terzini, quindi vanno a creare questa superiorità numerica in difesa che poi è difficile da scardinare, soprattutto per una squadra come la Juve, che come dicevamo è una squadra che va a crossare ed è una squadra che non ha una velocità di palleggio elevata nella metà campo avversaria. Quindi attenzione che Lecce ha sicuramente tutte le caratteristiche per metterci in difficoltà e l'abbiamo visto secondo me pure all'andata perché è stata una partita non bellissima, anzi, dove il Lecce non mi era sembrato chissà che cosa, eppure nonostante questo era riuscito a mettere in difficoltà la Juventus. Risolta con una giocata meravigliosa di fagioli, era una Juventus anche che arrivava come un mood differente, era all'interno di quel filotto di vittorie consecutive senza nemmeno prendere gol, oggi non abbiamo quella solidità, oggi non abbiamo quella forza mentale, oggi giochiamo in casa però e mancano pochissime partite al termine della stagione e di errori ne abbiamo già fatti tante. Non c'è più margine per sbagliare altre cose, anche una squadra come il Lecce può assolutamente metterci in difficoltà, e lo abbiamo visto nel mese di aprile, e dato che oggi inizia maggio sarebbe necessario e opportuno iniziare praticamente l'ultimo mese della stagione nella maniera migliore. Quindi noi ci vediamo questa sera con tutti i soliti contenuti, live reaction, post partita, pagelle, come tutte le volte che si gioca una partita, ci vediamo dopo il triplice fischio.